Importanti novità sono state rese note dal comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Liseo sul distaccamento permanente dei caschi rossi in località Mattine, nel comune di Agropoli. La prossima settimana, infatti, il comandante provinciale di Liseo farà visita nella città di Agropoli e incontrerà il primo cittadino ad Amocopola per discutere dell'attivazione permanente del presidio. Innanzitutto l'idea di creare un distaccamento ad Agropoli e in quell'area è da perseguire, sicuramente perché voi sapete che adesso è coperta dal distaccamento di Vallo che è molto lontano quindi i tempi di intervento veramente sono lunghi. Abbiamo in auge un progetto di realizzazione di un nuovo distaccamento operativo dei Vigili del Fuoco proprio ad Agropoli. Sono stati già presi contatti con il sindaco per la sede di cui mi premuro di andare a vedere proprio la settimana prossima. Abbiamo preso un appuntamento nei primi giorni della settimana. Ovviamente è fatta la casa, poi ci vogliono gli uomini, però se la casa è pronta gli uomini riescono ad arrivare un po' prima. Quindi è un progetto che andrà avanti. Non vi posso assicurare sui tempi di realizzazione, non sono immediati entro quest'estate, però sicuramente il Ministero concorda nella progettualità di questo impegno e da parte del Comando c'è l'assoluta condivisione. Quindi andremo avanti sicuramente con grande impegno e con grande entusiasmo perché un distaccamento ad Agropoli ci consentirebbe di dare una copertura al soccorso, di migliorarla notevolmente rispetto a quella attuale. Quindi un presidio per quest'estate temporaneo ci sarà? Allora, per l'estate direi che al 90% ci sarà. Non mi sbilancio al 100% perché la Convenzione con la Regione è ancora in dirittura d'arrivo per la firma. Voi sapete che come l'anno scorso noi avremo delle squadre AIB aggiuntive al dispositivo ordinario che sono previste all'interno della Convenzione. Una di queste già l'anno scorso fu collocata ad Agropoli. Se i numeri e le persone saranno le stesse, è mia intenzione ovviamente collocarla lì. Anche perché se come amministrazione abbiamo scelto di impegnarci con un distaccamento permanente, mi sembra ovviamente naturale che anche un presidio estivo sia collocabile in quell'area. Grazie. Grazie mille.